Allora c'è un tipo che dopo tanti anni che è immigrato dal suo paese, torna dal suo paese d'origine e incontra un amico e l'amico gli fa, ma scusa ma sei partito che eri un morto di fame e adesso sei tornato che sei ricco con una macchinona, vestiti firmati ma come cazzo hai fatto? Lui fa guarda sono stato in Olanda e ho aperto un'attività, ho comprato una casa a tre piani e ho aperto un'attività ma che attività hai aperto scusa? Lui fa guarda Olanda paese libero, paese molto emancipato, ho aperto una casa di appuntamenti al primo piano ho messo le troie giovani di vent'anni, al secondo piano ho messo le milf di cinquant'anni e all'ultimo piano ho i culattoni, gli fa Oh cazzo, si fanno i soldi, il più è partire, allora l'amico gli fa come? Vabbè perché? Perché all'inizio eravamo io, mia moglie e mia figlia Grazie a tutti